Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Traffico in tilt in A1 per un incidente che ha coinvolto una mezzo pesante. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 15, in corsia a sud, poco distante dal casello Valdarno, coinvolta anche un'auto. Sul posto, sanitari del 118, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale di autostrade. Due le persone ferite, due uomini di 47 e 44 anni, trasportati entrambi all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia e ricoverati in codice giallo. La circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia con inevitabili lunghe code. Un altro incidente, sempre nel primo pomeriggio, lungo la strada provinciale 13, via Selva, nel comune di Fogliano. Tre, in questo caso, le vetture coinvolte. Tre, anche le persone ferite. Una donna di 55 anni, portata in codice 1 alla Fratto. Una donna di 20, portata invece in codice 2 all'ospedale di Nottole. Ed infine un uomo di 57 anni, trasportato in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena. E restiamo in Valdarno. Oggi si è aperto il processo contro la Germania per l'eccidio di Cavriglia. 192 morti trucidati il 4 luglio del 44 dopo un rastrellamento. Vediamo il servizio. Si è svolta presso il Tribunale di Firenze la prima udienza del processo civile per il risarcimento ai familiari delle vittime per la strage nazi-fascista del luglio 1944 a Cavriglia. Figli, nipoti, pronipoti hanno sottoscritto l'istanza collettiva avviata all'indomani del decreto legge del 30 aprile del 2022, che ha stanziato un fondo nazionale da 61 milioni di euro. Come sindaco con la fascia tricolore, ha detto Leonardo degli Innocenti Osanni, insieme a buona parte della giunta comunale e agli avvocati, sono intervenuto, preso parte alla prima udienza, assieme a molti dei discendenti civili trucidati dai militari della divisione di Hermann Göring. Per le stragi commesse a Cavriglia, fin qui non sono mai stati imbastiti i processi, tranne quello penale, al generale Schmalz del 1951, che poi venne assolto. Ora, da questo processo civile, ci aspettiamo finalmente che venga invertita la rotta, lo deve la storia alla nostra comunità. Il giudice ha avviato dunque ufficialmente l'iter, la prossima udienza è stata fissata per il 2 aprile 2024. Torniamo adesso a parlare dell'omicidio di Terra Nuova a Bracciolini. Le indagini sarebbero a un punto di svolta. La svolta a questo punto sarebbe davvero vicina. I carabinieri, al lavoro ormai da giorni, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di video e sorveglianza e ascoltato i testimoni, avrebbero già identificato l'assassino di Joella Ramirez Seipo, il 38enne di origine domenicana, residente a Montevarchi, morto all'ospedale della Gruccia, dopo essere rimasto gravemente ferito in una rissa davanti al locale di Terra Nuova a Bracciolini la scorsa domenica all'alba. I militari avrebbero stretto il cerchio attorno ad un piccolo gruppo di persone connazionali della vittima. Tra queste anche l'omicida che abiterebbe in Umbria, anche se al momento non sarebbe stato emesso alcun provvedimento. Le indagini sono coordinate dal PM Francesca Eva. Intanto, dopo l'autopsia che ha confermato che ad uccidere il giovane sarebbe stato un taglio alla gola, compatibile con il frammento di narghile trovato dai carabinieri nel piazzale del locale, la salma è stata restituita ai familiari che potranno così celebrare i funerali. Con un post su Facebook, la famiglia ha fatto sapere che sarà sua premura avvertire quando si svolgerà la cerimonia funebre, aggiungendo parole di fiducia per l'operato degli investigatori. Lasciamo, scrivono, che la giustizia faccia il suo corso. Un quarantenne a retino è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti sessuali e molestie nei confronti di due ragazze che erano arrivate in città per assistere a uno dei concerti della Mango Music Fest. L'episodio risale a luglio 2022. Adesso il giudice Stefano Cascone ha accolto la richiesta del processo con rito abbreviato per l'imputato. L'udienza è stata fissata per il 20 ottobre prossimo, nel corso della quale ci sarà anche l'interrogatorio della quarantenne. E a Sansepolcro invece scatta una disinfestazione straordinaria a disporra il sindaco Fabrizio Innocenti. Vediamo perché. È il sindaco di Sansepolcro, comune della Valtiberina, nella retino, a comunicare di avere messo un'ordinanza di disinfestazione a seguito della segnalazione di un caso di virus di Qigongunia nel suo territorio. Il paziente, si legge nella nota, ha sviluppato solo lievi sintomi. Il virus appartiene al genere dell'alfavirus ed è trasmesso dalle zanzare del genere ADES che trasmettono anche la febbre dengue e zika. Le zanzare si infettano pungendo una persona malata nella fase acuta e poi diffondono la malattia, pungendone altre. Il primo cittadino abiturgenze, Fabrizio Innocenti, ha così emesso una nuova ordinanza con la quale viene disposta la disinfestazione straordinaria nella zona dove il paziente ha soggiornato. Viene richiesto a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali o gestori di attività produttive la maggiore collaborazione possibile per permettere agli addetti di svolgere al meglio il loro servizio. Restiamo a Sansepolcro questa mattina. Il comitato provinciale tra le forze dell'ordine per analizzare la questione sicurezza e malamovida a richiederlo due settimane fa era stato il sindaco Innocenti. Dunque saranno intensificate le attività coordinate dalle forze di polizia e della polizia locale con la predisposizione di servizi straordinari soprattutto in orario notturno. Le forze impiegate opereranno anche per far rispettare l'ordinanza del primo cittadino che ha stabilito un limite di orario per la somministrazione di bevande alcoliche ed infine sarà attivata una campagna di informazione nei confronti dei più giovani. E adesso torniamo ad Arezzo, ci spostiamo all'impianto AESA di San Zeno. La regione toscana infatti ha autorizzato il mantenimento in esercizio dell'L45. La cosiddetta L45, la linea cioè da 45.000 tonnellate di rifiuti annue del termovalorizzatore di San Zeno, non chiuderà. La decisione del mantenimento in esercizio anche di questa linea è della regione toscana, comunica AESA impianti. In termini economici, scrive l'azienda, questo significa un risparmio netto di 2,2 milioni di euro perché si evita la demolizione di un reparto sempre aggiornato e premiante, ma anche un risparmio di oltre un milione all'anno per la collettività, derivanti dal fatto che durante i fermi impianti per manutenzione non si andrà più in discarica con gli scarti e non si acquisterà più energia elettrica dalla rete. La linea di recupero energetico così organizzata, prosegue AESA, potrà sopperire in caso di manutenzione, guasto o emergenza alla L75, cioè la nuova linea in costruzione, quella da 75.000 tonnellate all'anno. Le migliori risposte che l'azienda può dare al proprio territorio sono la capacità di autofinanziarsi, incrementare la centrale e mantenere fuori dall'emergenza rifiuti la provincia di Arezzo, afferma il presidente di AESA impianti Giacomo Cherici nel commentare la notizia. Proseguono le polemiche in città per le condizioni delle strade. Sul tema adesso interviene l'assessore alla manutenzione Alessandro Casi. Nessuno nega, fa sapere che ci siano strade che necessitano di un intervento, ma non corrisponde al vero che su questo fronte l'amministrazione sia inattiva. Queste manutenzioni prosegue e stanno procedendo secondo il programma che ci eravamo dati. Gli interventi adesso riguarderanno via 25 Aprile, una strada molto transitata e che proprio per questo presenta aspetti di usura che richiedono un intervento non solo sullo strato superficiale di asfalto, ma anche in profondità. Proprio per l'invasività dei lavori sarà necessario chiudere al traffico. La chiusura interesserà lunedì 9 e martedì 10 ottobre. In Camera di Commercio invece è stato siglato un protocollo d'intesa per la gestione dei conflitti tra tinto, lavanderie e utenti. Deterioramento dei capi a causa di etichette inesatte e ingannevoli, smarrimento, tempi di consegne e di ritiro dei capi non rispettati, ma anche macchie che resistono ai lavaggi professionali. Sono queste alcune delle problematiche più frequenti che si riscontrano nei rapporti tra le tinto, lavanderie e retine, 98 in tutto quelle presenti e i clienti. È così nato un protocollo d'intesa per la gestione dei conflitti siglato dalle associazioni di categoria, di tutela dei consumatori e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Quindi un lavoro fatto di gruppo, questo ha testimonianza che quando si riesce a essere realmente uniti a lavorare insieme si ottengono straordinari risultati e questo consentirà alle tinto e lavanderie di lavorare in maniera più serena. Allo stesso tempo solleva anche i clienti che hanno una certezza di quello che sarà il risultato del servizio richiesto. Tutela soprattutto i clienti, i consumatori, nei nostri confronti perché avere una serie di momenti, di regole come le leggi sono per tutti. Per noi è un momento estremamente importante questa firma di oggi. In caso di controversie, se tra i clienti e la lavanderia non sarà stato possibile raggiungere un accordo buonario, le parti potranno rivolgersi preventivamente ad una commissione paritetica di conciliazione. Basta che un cliente, un consumatore insoddisfatto di una pulitinto lavanderia si rivolga alla Camera di Commercio per ottenere poi un'attività di mediazione che è gratuita, rapida ed efficace, dico io, perché può evitare anche un contenzioso che sfocia anche in una causa civile. Un apposito testo semplificato sarà infine affisso in modo visibile alla clientela nei locali delle tinte lavanderie aderenti. È un ottimo punto di partenza, assolutamente migliorabile, che sarà sicuramente migliorato con la pratica, ma riteniamo fondamentale stimolare e incrementare il buon rapporto tra esercenti, artigiani e consumatori, cercando entrambi i settori. Questa mattina è partito a ritmo di samba il mercato internazionale di Arezzo alla sua diciassettesima edizione. Taglio del nastro al ritmo di samba per l'edizione numero 17 del mercato internazionale che affollerà le vie di Arezzo fino al prossimo 8 di ottobre. Ecco, lei aveva già detto nella conferenza stampa che quest'anno si torna ai numeri del pre-pandemia, è così? Sì, esatto, oltre 305 espositori che è praticamente il record dall'ultimo anno, appunto il 2019, che aveva toccato questi numeri. Quindi siamo molto contenti come ConfCommercio di aver ridato alla città questo bel evento. Si parte nel modo giusto con il tempo e la temperatura che chiaramente ci aiuta in questi giorni. Diciassettesima edizione, quindi un grande evento che ritorna nel centro storico della città con tanti operatori anche locali, oltre 90 operatori locali della provincia di Arezzo, quindi non solo cibo internazionale, ma anche tanto cibo eccellenze no gastronomiche della provincia di Arezzo. Abbiamo detto, insomma, tante volte in tre chilometri si fa il giro del mondo, ma è così? E come lei sottolineava, appunto, però, ci sono anche tante eccellenze italiane e aretine. Assolutamente, sì. Posso citare anche i prodotti agricoli di Coldiretti e Cia, che insieme a ConfCommercio collaborano alla realizzazione dell'evento. Quindi tanti produttori agricoli e anche tante eccellenze del nostro territorio, piatti speciali, appunto, di Arezzo e non solo, quindi il menu è ricchissimo. Ci sono anche eventi collaterali che coinvolgono le zone dove il mercatino, appunto, arriva, ma in forme diverse. Sì, appunto, in questi tre chilometri di mercato ci sono aree molto importanti, come Piazza Sant'Agostino, che ospiterà l'animazione per bambini con i piccoli chef e gli effelanti, ma anche un grande concerto musicale sabato 7 alle ore 21 con l'Uma Groso in Piazza Sant'Agostino. Grazie al grande contributo dei commercianti, appunto, della piazza e di ConfCommercio. Due borse di studio per la formazione di nuovi professionisti dell'e-commerce nel settore della moda. Sintra Digital Business di Arezzo ha rinnovato, infatti, il proprio impegno nel sostenere giovani e neulareati nell'acquisizione di nuove competenze utili per un futuro inserimento nel mondo lavorativo. Le borse di studio saranno finalizzate alla partecipazione al corso di alta specializzazione e-commerce management per la moda che partirà da mercoledì 11 ottobre. E si è parlato, invece, di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle scuole aretine grazie ad un progetto portato avanti da Unicef e Fondazione Monnalisa. Per favore, non parlare dei miei diritti, così a lungo e così forte, li conosco già tutti. Questi ragazzi che si sono espressi in, come il titolo della mattinata, suoni, colori, musica. Quindi, producendo dei manifatti che vanno appunto dai videomusicali a una canzone, alle tovagliette dei ragazzi della scuola dell'infanzia. Ecco, un 4 ottobre, un San Francesco veramente molto evocativo che ci dà un messaggio di speranza. Parole, suoni e colori per raccontare i diritti. Questo il concorso Unicef rivolto a tutte le scuole dell'aretino. Un concorso Unicef che è stato proposto alle scuole di Arizzo, di tutte le nostre 52 scuole, e hanno aderito molti istituti comprensivi e alcune scuole secondarie di secondo grado. Questo concorso è stato realizzato con la forte collaborazione della Fondazione Monnalisa e con il patrocinio dell'ufficio scolastico provinciale del dottor Roberto Curtolo, che ha caldeggiato, promosso e sostenuto questa iniziativa. Oggi è un momento di premiazioni, di elaborati, di elaborati creativi, belli, dove si sentono che i ragazzi hanno una voce, hanno dei suoni, dei colori da comunicare. Un concorso per parlare di diritti dei bambini e degli adolescenti attraverso la creatività proprio dei più giovani. Io sono il pediatra, quindi sono abituato a istruire i genitori che già appena nati sentiamo, non a caso abbiamo diritto alle coccole, all'allattamento, eccetera. E non dobbiamo meravigliarci delle opere artistiche, musicali, pittoriche, il video, che i ragazzi riescono a fare. Quindi stamani ci siamo divertiti, ma abbiamo trattato un argomento estremamente serio. Il diritto dell'infanzia e dell'adolescenza a costruire un proprio futuro di felicità. Il primo premio infanzia è andato all'Istituto Martiri di Civitella, per la scuola primaria invece a vincere il comprensivo Piero della Francesca. All'Istituto Sansepolcro il primo premio nella categoria scuola secondaria ed infine all'ITIS Galileo Galilei il premio scuola secondaria di secondo livello. Si è consegnato la convenzione, la convenzione dei diritti dei giovani. Siccome dai dai facciamo sempre cose per bambini, qui comincia dal nome del padre. Istituzionalmente cerchiamo di preparare i ragazzi che i loro diritti debbano essere sempre rispettati. E qui noi c'è tutte le scuole, le istituzioni, i privati, i ragazzi che parlano, danno l'idea di veramente di essere una società che guarda il futuro e ha fiducia nel futuro. Grazie. Grazie. A D'Arezzo un nuovo appuntamento con le celebrazioni Garibaldine 2023. La mostra dal titolo ebrei in camicia rossa dal risorgimento alla resistenza. Noi che D'Arezzo per esempio abbiamo avuto Eugenio Calò che è stato un partigiano ebreo e Sadun, o Sadun come si dice che era un ebreo senese, è venuto a combattere anche lui ad Arezzo. Eugenio Calò purtroppo ci ha lasciato la vita a San Polo. Eugenio Calò, comandante di origine ebraica della ventitreesima brigata Garibaldi Pio Borri di Arezzo, fuggito dai nazisti nell'ecidio di San Polo il 14 luglio 1944. Il suo contributo è quello di tutti i volontari di origine ebraica alle battaglie del risorgimento, alla Grande Guerra e alla Resistenza sempre nel nome di Giuseppe Garibaldi ricordato nell'esposizione allestita nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia. Perché a queste persone gli va detto grazie e che sono state, fino ad ora, sono state trascurate. Sono state trascurate e mi hanno dato un contributo notevole anche in vite umane prima di tutto per quello che era il risorgimento con Garibaldi e vestendo la camicia rossa. Ma poi proseguendo anche verso la Prima Guerra Mondiale e soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale dove erano perseguitati e che hanno dato un contributo notevole alle formazioni partigiane. La mostra dal titolo ebrei in camicia rossa da Risorgimento alla Resistenza rientra negli appuntamenti delle celebrazioni Garibaldine 2023. È una mostra molto, molto intelligente. Si raccomandano fortemente gli istituti e i docenti a portare i loro ragazzi a leggerla perché attraverso la ricostruzione di queste figure storiche di origine e di fede ebraica ma che comunque sono italiani al 100%, non ce lo dimentichiamo, riscopriamo dei veri e propri eroi nostri che hanno compiuto imprese. È importante questo escursus perché fa capire che dal risorgimento arrivando all'Unità d'Italia, arrivando alla Prima Guerra Mondiale e poi appunto all'esistenza, questa è stata una costante. Questo ci insegna che il popolo italiano è un popolo ricco, è un popolo di cultura, è un popolo che sicuramente deve le sue qualità alla fusione anche di tanti pensieri e mi piace ricordare in queste occasioni il pensiero di Papa Giovanni Paolo II, Papa Uttila, che diceva che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori. Penso che oggi abbiamo reso omaggio anche a lui. La mostra, allestita per la prima volta tre anni fa dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna, sarà visitabile con orario 9-18 sino al prossimo 13 ottobre. Noi chiederemo anche agli altri istituti delle province toscane di poterla ospitare perché secondo noi è un bel messaggio di unità, di concordia, di uguaglianza, di fratellanza e tutte parole che sono legate da un concetto unico che è abbinato alla natura dell'uomo, la libertà. Passiamo alla pagina dello sport. Domenica alle 18 l'Amen ABC Servizi Arezzo ospiterà il Palasportestra Mario Dalgata, il CLS Quarrata per la seconda giornata di andata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da un successo nel primo turno, l'Amen in trasferta contro Sestri mentre Quarrata ha battuto tra le Muramiche Castelfiorentino. Nello scorso campionato di Serie C i pistoiesi si imposero nettamente in entrambe le sfide dirette motivo in più per i ragazzi di coach evangelisti di provare ad invertire questo trend negativo. Due ragazze dell'Alga Atletica Arezzo invece in pista per i campionati italiani cadetti la massima manifestazione nazionale riservata e nata nel biennio 2009-2010 in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre nella Veneta a Caorle. Si svilupperà attraverso due giornate di gare nelle diverse specialità di velocità salti e lanci con la società Aretina che sarà presente con Alice Carducci e Stella Arniani. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a presto d' intrigued